Amici di Fanno TV, ben trovati. Un'impresa in Regione, l'approfondimento dedicato al faccia a faccia tra la CNA in collaborazione con la CRAI e i candidati a governatore della Regione Marche. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, naturalmente Gianmario Mercorelli, buonasera e bentrovato al segretario provinciale della CNA Moreno Bordoni. Mercorelli, lei si presenta come candidato governatore della Regione Marche per il Movimento 5 Stelle ed è qui questa sera per rispondere alle domande che riguardano il mondo delle imprese. Quale futuro allora si prospetta per le nostre imprese? Si prospetta un futuro che dipende moltissimo da chi sarà poi il vincitore. Possiamo vedere nelle altre parti politiche, le tradizionali, le più note per così dire, quelle meno secolarizzate, un atteggiamento confuso a mio parere. Raramente sento gli altri candidati governatore rispondere puntualmente alle domande, raramente sento chiarezza. Credo che questo sia quanto di peggio ci si possa prospettare. Su una posizione chiara e definita si può discutere, può piacere o può non piacere. Sulla vaghezza generale non si può decidere nulla e non si propone nulla di effettivamente concreto. Per noi risposte chiare, punti chiari, certezze per le imprese in particolare, stiamo parlando di questo, sono cruciali per la ripresa, per ripartire, per ricominciare. Il nostro slogan è ricominciamo. Lucidità e molta capacità di leggere i mezzi che oggi il nostro tempo ci offre. E questa è un'altra caratteristica. Parlare di digitalizzazione, di sburocratizzazione nelle marche oggi sembra quasi parlare di fantascienza con le altre forze. Non lo è, sono cose attuabili immediatamente da domani. Quindi un futuro, se dovessimo essere noi a governare questa regione, un futuro di innovazione, di slancio vero, concreto e con il coinvolgimento delle imprese. Una cosa che ho detto a tutte le associazioni di categoria. Sono loro ad operare sul territorio, sono loro che conoscono le necessità e le cose di cui hanno bisogno. È inutile tenerli fuori e offrirgli a volte un contentino, una partecipazione con l'ennesimo tavolo di lavoro e ore perse. Ma proprio integrazione nel processo legislativo. Mi aiuti a scrivere la delibera, che poi va in consiglio, sarà comunque votata. Bene, la parola adesso passa a Moreno Bordoni, segretario provinciale della CNA. Ben trovato Mercorelli, grazie di essere con noi questa sera e soprattutto grazie per aver accettato il confronto con la CNA e quindi con il mondo dell'impresa. In un momento storico in cui gli imprenditori probabilmente come non mai hanno bisogno di risposte importanti da parte della politica. E quindi volevo subito farle una domanda che è molto cara alla CNA anche a livello nazionale e riguarda il livello di tassazione praticamente ormai insopportabile per i nostri imprenditori. Quindi livello nel quale incide anche la tassazione regionale e locale. Quindi volevo sapere il suo pensiero rispetto a questo importantissimo tema che noi da tanti anni stiamo portando avanti. Tassazione è un organo complesso, una questione molto complessa. La fetta puramente regionale forse non è così ampia, ma le scelte regionali influiscono moltissimo poi a caduta su tutte le altre tasse locali, ad esempio anche le comunali. Potrei fare un esempio, ma lo faccio dopo. Perché sta in piedi questo sistema? Perché sta in piedi questa burocrazia strangolante ovunque, con pratiche continue e infinite? Perché deve giustificare il sistema di governo basato sul favore politico. Ci sono una valanga di persone assunte per piacere al politico e quelle persone devono pur fare qualcosa. Quindi non si efficienta la ragione, non si ragiona in senso chiaro e semplice perché non si vogliono liberare posti che possono far comodo per essere rivotati. Faccio un esempio sulla tassazione ora, a prescindere dall'addizionale IRPEF o da quelli che possono essere i temi prettamente regionali, abbiamo ad esempio una cattiva gestione che porta di conseguenza alle tasse molto alte. L'esempio che volevo fare è sulla gestione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti porta ad una tassazione molto alta e che ricade praticamente su tutti, dalle famiglie alle imprese alle attività commerciali, non fa distinzioni. Stabilire una buona politica dei rifiuti, e si può fare, si può fare un'enormità di lavoro, può portare a caduta molto semplicemente a risparmiare tantissimo. Ci sono imprese che spendono decine di migliaia di euro, magari perché gli è stato messo a monte di tassazione anche il piazzale davanti all'impresa, succede spesso questo. Bisogna ragionare bene, riorganizzare bene la ragione in maniera da rendere efficaci, innanzitutto rendere efficaci le tasse che già si pagano. Perché una cosa è pagarle e non vedere alcuna ricaduta, una cosa è pagarle e vedere una ricaduta. Cioè avere un sistema che funziona, significa, ho pagato tanto ma ho ricevuto molto. Quindi già quella è una fase. E poi rendere efficaci tutti quegli ambiti che attualmente vengono trascurati, ma vengono trascurati perché ogni sacca di influenza politica viene considerata irrinunciabile. Si può fare invece, si può rinunciare. Chiaro che le imprese vanno sgravate, è chiaro che facevamo un discorso qualche minuto fa sul fatto che ci sia una discriminazione enorme in Italia molto spesso tra una città e l'altra. Cioè tra una città e l'altra abbiamo addirittura differenze di tassazione del 10%. È mostruoso. È una differenza che porta sostanzialmente a una mancanza drammatica di competitività dell'una rispetto all'altra. Solo perché ha avuto la sfortuna, si fa per dire, ma spesso c'è anche una questione d'affetto, di essere in una città rispetto a un'altra. Dovrebbero spostarsi tutti in quella dove costa meno? Non è possibile. Bisogna ragionare per rendere equiparato a livello nazionale o riferirsi ai migliori come tassazione. Un altro dei fardelli più pesanti per le nostre imprese è il carico di adempimenti burocratici, spesso anche complicati dalle amministrazioni locali. Volevo sapere il suo parere rispetto alla macchina regionale, se la intendete snellire, rendere più operativa e meno burocratizzata. Anche questo è un punto necessario e questo è un punto che si ricollega con la questione di avere il possesso dei mezzi che oggi i nostri tempi ci offrono, che ho detto all'inizio. Cosa succede? Succede che, come dicevo, se parlate con i politici di destra o di sinistra, trovate un'ignoranza veramente impressionante rispetto all'internet in senso più vasto possibile, cioè alla rete, alla telematica, sia per quanto riguarda la sensibilità nei confronti delle infrastrutture che oltre a due chiacchiere non offrono, ma sia l'efficacia che potrebbe avere una digitalizzazione spinta dalla pubblica amministrazione. Come limitiamo la burocrazia? La limitiamo rendendola ad esempio online. Se un'azienda ha 100 adempimenti burocratici da effettuare nei confronti della regione, una cosa è che li faccia andando in 50 uffici diversi, in 20 occasioni differenti, una cosa è che li faccia da casa, fermi restando che 100 sono troppi, ma una cosa è che li faccia invece dal proprio ufficio una persona che in due giorni li aspetta tutti allo stesso portale. Come si digitalizza? Non si digitalizza mantenendo 30 portali diversi, ognuno con la propria modalità, è ognuno che ti richiede ogni volta gli stessi documenti. Si digitalizza con un singolo ID, con il quale tu accedi ad un portale per le imprese, che ti apre immediatamente l'accesso a tutti i tuoi doveri burocratici, istituzionali, e da lì fai tutto contemporaneamente. Si può fare, si può digitalizzare, bisogna avere la sensibilità e la volontà. Digitalizzare massicciamente significa impiegare molte persone, per un lazzo di tempo non peraltro molto lungo, che fanno un lavoro sistematico, molto semplice, scannerizzare dei fogli e organizzarli in un database. È una cosa che si può fare semplicemente con la volontà, ma cosa ha come contraltare? Quello che ho detto prima, sottrae persone, sottrae posti di lavoro, sottrae influenza politica. Come ho detto prima ancora, avete una persona che non ha alcun interesse a ribadire l'influenza politica o ad esercitarne. Io voglio fare le cose giuste per la regione. Si può digitalizzare e quello da solo taglia il 30% del tempo che sprecate dietro la burocrazia. Mercorelli, alcuni cittadini hanno il piacere di rivolgerle alcune domande, io lancierei subito il primo contributo. Il tema del credito è sempre al centro delle preoccupazioni delle imprese. Cosa intendete fare per agevolare i contributi alle aziende? Mercorelli, cosa rispondiamo a questa donna? Allora, qui uno dei punti chiave è il fatto che le macchie abbiano perso il loro istituto bancario di riferimento, che era la Banca delle Marche. Banca delle Marche che anche lì ha subito l'attacco politico, perché la Banca delle Marche era una banca, come sapete, o forse non tutti lo sanno, gestita da delle fondazioni locali, che peraltro rigiravano parte dei guadagni anche sul territorio, ma le fondazioni erano popolate sostanzialmente da persone con una carriera politica molto spesso alle spalle. Una banca che è mutata in 4-4-8 da una banca di paese, con molte filiali, quindi molta familiarità con la clientela, molta facilità di interfaccia, di rapporto, da una banca che è iniziata a fare investimenti immobiliari giganteschi, che poi erano portate al fallimento. Questo ha lasciato il campo aperto, il problema è che non abbiamo una definizione chiara, abbiamo due realtà possibili in questo senso, una quella di confidi e una quella delle BCC. Le BCC però sono ormai conformate in modalità di grande gruppo bancario, quindi la possibilità di essere calate sul territorio effettivamente e in dettaglio l'hanno un po' persa, la stanno un po' perdendo. Va scelta probabilmente una direzione di massimo, cioè va attribuita una dignità di referente ad una realtà locale, ad una realtà che conosca le imprese, che sia vicino alle imprese. Va fatta una scelta, ma è una scelta che non si può dichiarare su due piedi in una sede come questa, per quanto sia, sino anche ambiti a voi vicini, come quello di confidi. Però va discusso, va approfondito l'ambito, va approfondita la questione. Va fatto, come dicevo prima, coinvolgendo le associazioni di categoria, perché no, coinvolgendole tutte, confrontandosi, anche perché in questo senso diventa molto concretamente anche una questione di economicità, di convenienza. Banalmente, con chi faccio la mia convenzione? La faccio con chi mi fa le condizioni migliori, con chi offre di più alle imprese che poi dovranno accedere al credito. È una questione sicuramente non di veloce soluzione, non è di veloce soluzione, ma qualcosa va fatto per forza, va fatto per forza e, ripeto, lo si fa in collaborazione con chi poi in banca chiede i soldi, ci deve andare. Mercorelli, per lo sviluppo futuro delle marche dobbiamo fare i conti, purtroppo, con l'isolamento della provincia di Peser Urbino, un isolamento dovuto a carenze infrastrutturali, sia materiali che immateriali. Cosa intendete fare per questo delicato tema? Ora, giustamente siamo nella provincia di Peser Urbino e voi parlate della provincia di Peser Urbino. In realtà questa è una condizione che riguarda un po' tutta la regione. Non è che ci sia, non c'è una provincia più o meno fortunata, perché dove andate andate la condizione è la stessa, è replicata. Le marche sono, no, idealmente intanto organizzate male, perché sempre ragionate da nord a sud, che è una stupidaggine perché le marche sono organizzate naturalmente in un pettine di vallate dall'appennino verso la costa o viceversa, come si voglia considerare. Quindi, primo punto, le infrastrutture si ragionano di nuovo in quella modalità. Ciò non toglie che se invece verticalmente dividiamo le marche in tre segmenti ideali, c'è il segmento centrale, che è quello che sostanzialmente subisce di più la mancanza di infrastrutture, l'isolamento, c'è il segmento costiero, che naturalmente anche per conformazione è più dotato, quindi offre più mobilità, più facilità di spostamento, e c'è poi quello appenninico, che è sostanzialmente abbandonato a se stesso, senza alcuna cura. Riragionando la regione a livello di infrastrutture, noi non possiamo fare una scelta. Calo nel peso del urbino, certo che la Fano Grosseto è una cosa importante, per capirci, è evidente, ma anche la Fano Grosseto va affrontata non con il progettino zoppo che vedo ultimamente sui tavoli, ma andrebbe affrontata con il progetto di prima, quello degli anni Ottanta, se non sbaglio, che era estremamente più complesso e che effettivamente creava un'arteria di collegamento, che è non una mediazione per fare i contenti quelli della provincia, che abbiamo fatto la strada, perché non soddisfa, a mio parere, le necessità. Quindi è chiaro, ma ecco, ritorniamo al discorso, vanno riragionate le marche nei confronti del pettine, e vanno promosse contestualmente tutte le necessità infrastrutturali. È inutile che io faccia la stradina dimenticando di passare la fibra, dimenticando di fare la ciclabile o di riattivare la vecchia ferrovia abbandonata o chiusa, attività che si rileggerebbe con pochissimi denari. È inutile che faccia questa riorganizzazione senza pensare al turismo, insomma, è un insieme di operazioni che vanno portate insieme parallelamente, contestualmente in maniera organica, perché altrimenti si rischia di favorire, faccio un esempio, una ditta di high tech vera, una ditta che fa prototipazione 3D, ha bisogno sostanzialmente di una serie di macchinari e di una buona connessione di internet. Può stare anche in cima alla montagna, magari l'altro invece che fabbrica cucine ha bisogno della strada migliore di quella che è adesso. Se ne facciamo uno di intervento togliamo gli altri, quindi bisogna ragionare insieme. I soldi che verranno dal recovery fund di Conte, presi da Conte riconcedendo anche dignità alla nazione, questo lo dico sempre, arriveranno nelle marche, ma se sentiamo gli altri, come ho detto, gli hanno già finiti di spendere dieci giorni fa nei vari interventi, cioè spenderebbero per tutto. Io dico, mettiamoci seduti, tutti in questo senso, veramente con le associazioni di categoria e con chi ha un ruolo attivo attualmente già definito all'interno dell'organizzazione regionale, stabiliamo cosa fare, come farlo, fermiamoci finché non siamo certi. Poi si inizia a lavorare a testa bassa, si inizia a lavorare con l'impresa del territorio fin quanto possibile, questa è un'altra declinazione che si potrebbe fare, insomma, si fa. Questa sera con noi c'è un altro ospite in studio a cui do il benvenuto e cedo la parola, il presidente della CNA Alberto Barilario. Buonasera, grazie, buonasera a tutti i telespettatori. Io ringrazio a mia volta il signor Mercorelli per aver accettato il nostro invito a questo confronto che l'associazione ci tiene a fare in questi casi per confrontare le proprie esigenze con i programmi dei candidati. Vorrei fare una domanda molto importante, presumo, al candidato, parlando di sanità. In questo periodo di Covid abbiamo visto quanto sia importante la sanità pubblica e il suo funzionamento. Conoscendo qualche problemino ricedente in regione vorrei sapere dal candidato quali sono i suoi programmi riguardanti la salvaguardia di questo importante bene pubblico che è la nostra sanità regionale. Sì, grazie, Presidente. La sanità ha mostrato il fianco in maniera marcata in questo momento, lo ha fatto peraltro anche a livello finanziario. Come ben sapete è stato aperto un Covid ospite alla Civitanova Marche, 12 milioni di euro di soldi pubblici per lo più, attenzione, a differenza di quello che è stato raccontato, per un ospedale che è stato aperto 5 giorni con 3 pazienti. Quindi questo è già un segnale critico. La sanità è stata pian pianino, allora nella sanità c'è un disegno a mio parere in questo senso, c'è un disegno che è volto a confermare la bontà della sanità privata a discapito della pubblica. Il cup stesso che non funziona o che ti fa fare una fila o che ti dà l'appuntamento 8 mesi dopo è un segnale che poi l'opinione pubblica accoglie come un, vedi, il privato è bravo, efficace e veloce, e il pubblico non sa fare, non riesce, non ti soddisfa. Questo perché si vuole privatizzare quella che è la cifra più grossa disponibile nelle casse della regione, perché forse non tutti lo sanno, ma l'85% del bilancio regionale è fatto dalle spese, dalla gestione sanitaria. Quindi è un grossissimo capitolo di spese, è il più grande di gran lunga. E ci si vogliono mettere le mani, è un pezzo di carne succoso dove affondare gli artigli, e viene visto solo così, non viene visto come necessario servizio alla popolazione. Come si fa a nostro parere a riorganizzare la sanità? Senza ospedali unici intanto, senza costruzioni ulteriori che non attribuirebbero nulla a livello di organizzazione, anche qui non so se sapete che il nuovo piano di riorganizzazione sanitaria ha considerato quelli che dovevano essere ospedali alternativi ad altri, ossia gli ospedali unici, come ospedali ulteriori. Quindi hanno perso anche quella loro collocazione all'interno di una logica che non condivido, ma che quantomeno era una logica. Esempio sommario, ne chiudo 5, ne apro uno più grande, ora non è più così, ne faccio solamente uno nuovo. E già dovremmo capire perché questa spesa, dato che ci sono già degli ospedali. Gli ospedali vanno potenziati a livello tecnologico, chiaramente. Va potenziata la medicina territoriale, ma è una cosa che hanno detto tutti i candidati senza dire come. Come lo facciamo? Intanto l'ospedale deve restare perché soddisfa la necessità di certezza, di sicurezza, di serenità dei pazienti potenziali, delle persone. Quindi io non voglio sapere che per raggiungere un ospedale devo metterci un'ora e mezzo, perché sono libero nella vita di scegliere dove vivere, fino a prova contraria. Quindi certo, se voglio andare a vivere in cima alla montagna devo essere consapevole che la mia scelta porta delle conseguenze, ma non posso neanche arrivare in un ospedale in 5 ore se vado a vivere in cima alla montagna. Qui il problema è nei paesini, tutto l'entroterra, se uno la sfortuna si fa per dire, no? Di vivere in un posto peraltro meraviglioso, come la periferia di un paesino sugli appennini, per arrivare in un ospedale ci mette mediamente 4 volte tanto il tempo che ci impiega una persona che sta sulla costa, che magari in 10 minuti, in un quarto d'ora, mezz'ora, ne ha 3 o 4 disponibili. Non è possibile. Quindi i piccoli ospedali all'entroterra vanno potenziati e resi attivi, ma non è quello il primo veicolo di riorganizzazione. Il primo veicolo di riorganizzazione è la telemedicina e l'utilizzare in maniera seria l'infermiera di famiglia. Questo cosa deve portare? Sembra una contraddizione, dovrebbe portare a meno ospedalizzazioni possibili. Ciò non toglie che l'ospedale qualificato, preparato, con un pronto soccorso per ogni ospedale, e si può fare se si risparmiano soldi, deve esserci per le ragioni che ho detto prima, di tutela e di serenità. Siamo una democrazia con la sanità pubblica, quindi la gente deve anche stare tranquilla. Ma tantissimi cronici, tantissimi malati, ad esempio purtroppo molti malati terminali, spesso hanno la sfortuna di morire negli ospedali. Potrebbero vivere gli ultimi giorni in famiglia, con i loro cari vicino, dentro casa. Ospedalizzare il meno possibile, spostando la sanità a casa, a livello domiciliare, ci permetterebbe risparmi colossali, che ci permetterebbero di rimando, di riaprire magari il pronto soccorso, fare questo tipo di interventi di tutela effettiva. Perché voi pensate che è 500 euro di base di spesa, per un qualsiasi tipo di ricovero, quelli normali, non parliamo dei più costosi, che magari costano 4-5 volte tanto questa cifra. Noi con una settimana di un paziente in un letto ci paghiamo lo stipendio di un infermiere per un mese. Questo di per sé racconta tutta la storia. Allora assumiamo tanti infermieri, che mancano, perché il personale manca in maniera mostruosa, diamo in capo alla gestione degli infermieri, ai medici di medicina generale, che sono quelli che conoscono i mutuati, conoscono le persone, conoscono il territorio, e gestiamo un giro quotidiano di questi infermieri che vanno a curare le persone a casa. Non tutto possono fare, perché ci vogliono degli specialisti, ma con la telemedicina di cui parlavo, noi possiamo fare la diagnostica a casa, domiciliarmente, e poi in maniera telematica, da un centro, la diagnostica, me scusi, l'esame, ho sbagliato, possiamo effettuare l'esame domiciliarmente, e poi la diagnosi la facciamo in via telematica, anche in tempo reale, quindi non si dovrebbe spostare il cardiologo in caso di questioni evidentemente non gravi, ma la visita cardiologica te la faccio a casa, c'è l'infermiere che esegue quello che è il cardiologo in connessione, gli dice e tu in tempo reale hai la tua lettura. Questo si può fare, questo non vuol dire inventare la ruota, questa è una situazione che esiste già in molti stati del mondo, noi non lo facciamo perché? Perché capite che pensare di costruire 500-600 milioni di nuovi ospedali fa girare i soldi dove devono girare e non dove servono, si può fare tantissimo, tantissimo veramente, ma si può fare in uno schiocco di dita, perché le tecnologie ci sono, basta andare ad acquistarle, e acquistarle oggi significa iniziare a risparmiare tra 6 mesi, non fra 15 anni. Mercorelli c'è il contributo di un altro cittadino che ha un ulteriore quesito da porle, lo vediamo. Chiudono sempre più negozi e imprese, e non solo a causa del Covid. Cosa proponete di fare per aiutare gli artigiani e i commercianti? Come possiamo rispondere allora a questo artigiano? Possiamo rispondere in questo modo, una rieconomizzazione della regione come dicevo prima, ad esempio, un esempio che ho fatto spesso ma ricade molto bene nell'ambito, se noi organizziamo le vallate e mappiamo il patrimonio culturale storico della regione, poi nei percorsi che io ti vendo a te turista o a te persona che vuoi vedere dove magari insediare la tua attività o modo di offrirti delle informazioni dettagliate, se posso faccio un inciso veloce, la fibra ottica nell'entroterra si può fare in conto capitale del pubblico, perché oggi passare alla fibra ottica costa un'inizia rispetto a 20 anni fa, quindi si può fare, costa poco, se io ho un sistema di fibra dell'entroterra mio, della regione, che poi sarebbe dei comuni ma la regione lo favorisce, io posso offrirti dei servizi in funzione della mia rete, quindi a te giovani imprenditori o a te giovani ingegneri o architetti, ti dico vami a vivere nel paesino lì che io ti faccio pagare metà della bolletta d'energia, ti do la rete un gigabit gratuitamente, voglio dire in un discorso di gestione razionale, l'artigiano io lo infilo lungo il percorso che creo, se io creo un percorso, dico sempre del cappello di Montappone, il distretto del cappello di Montappone, ogni passo che tu fai da turista, da persona che cerca la nuova casa, ti deve fare inciampare su un muro di cappelli di Montappone, cioè devi essere proposto, promosso, le marche non hanno una vita al di fuori della regione, non le conosce nessuno, la seconda regione più bella del mondo, a chiunque se ne parli, anche in Italia, se uno cita, io vengo da Tolentino, in provincia di Macerata, peraltro piuttosto nota perché delle grandi imprese storiche, sono a Fra, insomma, che dir si voglia, ma se io dico Tolentino al nord Italia o in Lombardia, Macerata non la conosce, non sanno dove sia, in Abruzzo, in Molise, noi dobbiamo promuoverci, farci conoscere, se posso fare un'ulteriore aggiunta, io in maniera provocatoria, ho sempre portato un esempio, si pensa di ragionare sempre con i cervelli che abbiamo disponibili, ad esempio in regione, spesso persone magari competentissime, ma con la burocrazia in mente, io dico per promuovere le marche vogliamo fare l'ennesimo portalino della regione fatto dall'amico dell'amico o anche da quello bravo, ma limitato dalle possibilità che ha, qui da noi, oppure sei mesi di un portale Amazon Marche, lasciate perdere che Amazon non paga le tasse in Italia, tutte queste questioni criticabilissime e sbagliate, ma voi immaginate sei mesi di promozione dell'artigianato marchigiano su Amazon, cosa succede? Cioè noi avremo di colpo una platea planetaria, planetaria che poi si ridurrebbe una volta che il portale Amazon Marche si chiude, ma cavolo, comunque probabilmente triplichiamo gli accessi ai nostri prodotti. Abbiamo aperto un ragionamento molto importante perché come è noto le marche è la regione più artigiana d'Italia, noi come associazione lo sappiamo bene perché rappresentiamo tantissime migliaia di imprese che però, specialmente in ultimo periodo, anche a causa Covid, diciamo hanno sofferto e stanno soffrendo e quindi si crea il tema e viene alla ribalta il tema del lavoro, della conservazione dei posti di lavoro e anche della creazione di nuovi posti di lavoro in un territorio, come si diceva prima, legando i ragionamenti anche all'infrastruttura e tutto il resto, in un territorio che non è avvantaggiato in questo senso. Ecco, quali le vostre proposte per il lavoro, l'occupazione per andare in un discorso di sviluppo in questo senso? Intanto il discorso stesso di riorganizzazione, fatto in maniera ragionata, razionale, coinvolgendo le categorie che sanno qual è il trucco magari, per sbloccare una determinata situazione, è già un passo molto importante. e la riorganizzazione, ripeto, offrirebbe già lavoro in quanto da eseguirsi, ma anche una base solida sulla quale puoi costruire lavoro e promozione, parlavamo con il senatore Romagnoli l'altro ieri, ragionare per distretti, ci sono dei distretti che hanno delle vocazioni, distretto della carta di Fabriano, pelletteria nel mio maceratese, meccanica, esatto, mobile nel pesarese in senso più distribuito. Allora, come ne sfruttiamo queste vocazioni? Diamogli intanto un nome, definiamole come vocazioni produttive e già connotiamo, il connotare cosa vuol dire? Il connotare vuol dire poter promuovere il know-how anche all'estero, quindi far venire, se qualcuno vuole fare, torniamo per così, al cappello, uno vuole fabbricare un cappello in Italia, dove va? Non è così facile che uno straniero correlli il cappello alla città, dovremmo offrire questa possibilità, poi cosa facciamo? Generiamo ad esempio delle, forse università è troppo, ne abbiamo parlato proprio a CNA di Pesaro, a voi avevate uno spunto relativo a una scuola professionale, non amo il concetto di scuola professionale, perché mi sembra discriminante, ma una scuola sulla base di arts and crafts inglese, quindi una scuola che insegna ai ragazzi a gestire le materie, la materia, gli oggetti, le cose, è una posizione nobile di cultura, correlata chiaramente, offre la possibilità di caratterizzare localmente magari delle specializzazioni che vanno a supportare, perché spesso col tempo il know-how lo stiamo perdendo anche noi, allora creiamo un distretto, offriamo, sviluppiamole queste cose, sviluppiamo tutte queste interconnessioni, sono delle possibilità concrete di evolvere un sistema marchigiano, bisogna vederle anche lì con occhi aperti e al mondo attuale, all'attualità, a quello che c'è, si può fare tanto, questo genera lavoro, questo genera lavoro perché con nota caratterizza le imprese marchigiane, gli dà un nome, un cognome chiaro e ci possiamo proporre come riferimento perché non ci manca niente. Turismo e cultura sono il fulcro proprio per lo sviluppo del territorio, a proposito di questi temi, che cosa possiamo aggiungere? Guardate, io ritorno sempre sullo stesso principio di fondo, ma questo credo che in realtà vada a sostegno della bontà del principio, perché una questione organica offre proprio la possibilità di essere usata in maniera interdisciplinare, quindi il turismo, cosa facciamo? Mappiamo tutto il patrimonio regionale, non abbiamo questa mappatura, non esiste questa mappatura, esiste la conoscenza di alcune delle cose, neanche di tutte. Quindi mappiamo il nostro territorio, mappiamo i nostri paesini, mappiamo i percorsi, offriamo, quando parlavo delle ferrovie abbandonate, riapriamo le vecchie ferrovie che possiamo usarle sia come trasporto pubblico che come trasporto turistico, che poi è la stessa cosa formalmente parlando. E poi quando abbiamo i dati, che è una questione fondamentale avere i dati, quando abbiamo i dati, intanto dico sempre che dai dati stessi a volte spuntano fuori delle idee per il semplice fatto di averli, perché visivamente ragionando su una quantità di informazioni vengono fuori delle possibilità che se non hai le informazioni non cogli. Ragioniamo su dei percorsi fatti dalla regione, questo ci tengo, attraendo in regione i migliori cervelli disponibili al mondo, perché non ci importa niente di spendere 2 milioni di Euro per una consulenza se poi ci risolve il problema una volta per tutte. Io non sono di quelli, basta che non sia la consulenza di mio cugino, come si dice, quindi l'amico dell'amico dell'amico, quando abbiamo le informazioni ragioniamo, correliamo i dati e offriamo dei pacchetti turistici gestiti dalla regione, diciamo perché bisogna anche stare un po' a riparo dal fatto che il sindaco della costa voglia fermare tutti lì nella costa perché se no poi i soldi se li vai a spendere altrove fai un peccato mortale, non può essere più. Offriamo il percorso e ci si sposta, mettiamo 10 tappe, dalla costa fino all'interno degli appennini, fai 10 paesini e in ogni paesino ti faccio vedere le produzioni locali, le produzioni enogastronomiche, ti racconto la storia, ti offro i volantini, nelle marche ovunque si vada non c'è volantino di niente, se voi andate in Friuli, in Trentino, trovate in ogni stazione, in ogni bar, in ogni ristorante una pila di volantini così, quella è promozione, organizziamo e vendiamoci all'esterno, dobbiamo offrire la possibilità di esplorare le marche, dicevamo che non sono conosciute, le facciamo conoscere, vendiamo il pacchetto, poi fra 10 anni qualcuno si sarà innamorato del paesino sull'appennino, qualcuno gradirà ancora a continuare ad andare al mare, qualcuno si fermerà a metà strada, ognuno troverà la sua dimensione, dobbiamo fargliele conoscere. Io ringrazio il candidato Gian Mario Mercorelli per questo confronto, grazie al presidente del CNA Alberto Barilari. Io ringrazio voi, Fano TV, ringrazio il candidato Mercorelli, ricordo anche che questa trasmissione è stata fatta con la collaborazione di Crai, che normalmente collabora con noi, grazie agli spettatori per l'attenzione, speriamo di aver reso un servizio utile. Io ringrazio anche il segretario della CNA, naturalmente Moreno Bordoni. Buonasera e grazie. Ringrazio nuovamente il pubblico che ci ha seguito da casa e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.